Ciao ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati a questa nuova puntata di Advanced Squad Leader Starter Kit L'ultima puntata abbiamo analizzato la sequenza di gioco e come leggere uno scenario dello Starter Kit Oggi andremo, inizieremo ad affrontare tutte le fasi che compongono la sequenza di gioco Qua a destra vedete tutta la sequenza di gioco con tutte le fasi Oggi parleremo della Rally Face La Rally Face è una di quelle fasi dove sia il giocatore attaccante, cioè in fase, e sia il giocatore in difesa Possono svolgere delle azioni Non sempre questo avviene nelle altre fasi Per esempio nella Prep Fire solo l'attaccante può sparare Oppure nell'Advanced Fire Face solo l'attaccante può tornare a sparare O nella Defensive Fire Face solo il difensore può sparare O nell'Advanced Face solo l'attaccante può avanzare di un esagono In altre fasi entrambi i giocatori possono svolgere delle azioni Quindi la Rally Face è la prima fase che troviamo nella sequenza di gioco E l'attaccante, se richiesto dallo scenario, tira dei dadi per eventuali rinforzi E li sistema sulla mappa O fuori mappa Poi il giocatore sempre attaccante Se ha dei rinforzi già decisi dallo scenario Li può piazzare sulla mappa Vediamo in questo caso qua Il russo Adesso qui ho fatto un esempio di scenario Il russo nel primo turno Nella Rally Face deve prendere queste quattro squadre Che sono rinforzi che entravano nel primo turno Alleato russo E le piazza fuori mappa Perché magari nello scenario Diceva Queste quattro tube entreranno nel primo turno Lungo il nord Della mappa Quindi il nord Essendo Qui sopra Queste unità Si possono piazzare Nel bordo mappa Il bordo mappa Dobbiamo considerarlo come se ci fossero degli altri esagoni qua fuori Quindi questo qua sarebbe praticamente in C0 Ok E questo qua in E0 Se lo mettiamo per esempio però Qui Non si può Ok O lo si mette In E0 Che si entra in F0 O in G0 Che si entra In F0 Oppure consideriamo un F-1 Dove entrerà In F0 Ok Questo invece Potrà entrare sia di qua Di qua Di qua Oppure Qua Queste unità entreranno Durante la fase di movimento O durante La La fase di avanzata Di un esagono Ok Questa è la prima cosa Che si fa All'inizio della rally face Le unità Entrambe le unità Cioè Entrambi i giocatori Quindi prima però L'attaccante E il secondo Il difensore Possono cercare Di recuperare Delle armi Ok Come vedete qui L'arma è sotto Alla squadra Ok L'arma è sotto Alla squadra Quindi non è posseduta Perché per possedere Un'arma L'arma deve essere Sopra All'unità Come qua Ok L'ho messo sopra Quindi Se un'unità E se Una In questo caso Una Mitragliatrice leggera È sotto L'unità Vuol dire che Non è posseduta Dall'unità Quindi in questo caso qua Prima l'attaccante Poi il difensore Tirerà un dado Quindi Se fa Se fa Meno di 6 Il giocatore Potrà prendere L'arma L'arma E possederla Nel caso in cui L'unità Fosse in CX Come in questo caso qua Avrà un più uno Al dado Quindi se faccio 4 Più uno al dado Diventa 5 E ho fatto Meno di 6 E la posso prendere Se faccio 5 Però Con un più uno Al dado Vado a 6 Quindi Non posso Prenderla Ok Non sono riuscito A prenderla Questo ripeto È una Di Il caso B Entrambi i giocatori Lo faranno Potranno Potranno appunto Raccogliere Le armi Non possedute Prima l'attaccante Poi il difensore Cosa importante Le squadre Ovviamente Dovano essere In good order Cioè non devono essere Broken Rotte Ok Nella fase C Le unità In good order Possono tentare Di riparare Le armi Anche qui Entrambi Sia l'attaccante Che il difensore Potranno fare Potranno cercare Di riparare Le armi Prima l'attaccante E poi il difensore Quindi Prima l'attaccante Cerca di riparare Tutte le armi Rotte E poi il difensore In questo caso qua Ok L'unità tedesca Possiede Una mitragliatrice Leggera Ok Che è rotta Quindi Tirando un dado Se fa R1 Cioè se fa 1 Ripara L'arma Se fa 6 L'arma viene eliminata E se fa 2 3 4 5 L'arma rimane rotta Quindi potrà tentare Di aggiustarla Nella rally face Successiva Ok Nel caso di Si possono trasferire Dopo aver provato A riparare le armi Le armi Si possono trasferire Tra unità E good order Come qui Qua abbiamo Un'unità Che possiede La Mitragliatrice Leggera Tedesca E un'unità Che è Nello stesso esagono Però non ha Non possiede Nessuna Nessuna Mitragliatrice O arma In questo caso Il trasferimento È gratuito Ok Quindi Io decido Di trasferire Quest'arma Da questa squadra A quella squadra Lì Anche qui Entrambi I giocatori Sia l'attaccante E il difensore Possono Farlo Sempre prima L'attaccante E poi il difensore Durante la Questa è la fase Iniziale Del Fase iniziale Della Rally face Durante la Rally face Tutte le unità Rotte Ok Che hanno Il morale Racchiusi In un quadrato Anche qui Entrambi I giocatori Possono farlo Sia l'attaccante Che il difensore Ma sempre Prima l'attaccante Ok Cercano Sono i primi A provare A recuperare Il morale Quindi Come in questo caso Qua Questo leader Che è rotto E ha il morale Racchiusi In un quadrato Quindi praticamente Ha la possibilità Di fare un self rally Cioè di auto Recuperarsi Cioè non ha bisogno Di un altro leader Per poter recuperare Quindi Questo leader Qua Tirerà due dadi Il self rally Ovviamente Avrà un malus Al tiro di dado Di più uno Ok Se l'unità Però è in un edificio O bosco Avrà un meno uno Quindi In questo caso qua Essendo un self rally Avrà un più uno Al dado Che però Essendo in F4 Essendo dentro Un building Dentro una casa In cemento In pietra E Avrà Un bonus Di meno uno Come se fosse anche In un bosco Quindi in questo caso qua Avendo nove Il giocatore Tira due dadi E se fa Nove o meno L'unità Recupera Ok Ovviamente I leader Questo qua Un leader Nove o meno due Quando è rotto Perché il leader Di solito Un leader Otto o meno due Faccio un esempio Questo leader Otto o meno uno Dà un Modificatore Al tiro di dado Della squadra Che tenta Di recuperare Di Meno uno Al dado Ovviamente Se il leader Come in questo caso Qua che fa Self rally Non può utilizzare Il suo Il suo bonus Per auto Recuperarsi Solo l'attaccante Ok Solo l'attaccante Può Decidere Può provare A recuperare Un'unità Che non Che non Che non Che non Che non Abbia Il self rally Tipo questa Ok Quindi è la fase Come abbiamo detto Alleata russa Il 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 russo Tenta di recuperare L'unità L'unità Self rally Che il leader Fa Faccio un esempio Sette Quindi aveva nove E recupera Poi decide Già che non ha più Unità Rotte Con il morale Con il morale Con il morale Racchiuso Nel quadrato Si passa Alla Alla fase successiva Del punto E Cioè Si può decidere Si può cercare Di recuperare Un'unità Che non ha Il morale Racchiuso In un quadrato Ovviamente Se avessimo Faccio un esempio Due unità Ok Non posso Tentare Di recuperarle Entrambi Ma sceglierò Allora deciderò Decido di Magari recuperare Questa qua In G4 E qui Sarà la stessa cosa Avrò un più uno Perché è un self rally Gratuito E un meno uno Perché anche questa unità Si trova In In un In un esagono Di Di casa Quindi Quindi con 7 o meno L'unità Recupera Quindi mettiamo In faccia 5 L'unità Recupera Ok Nel caso Di Self rally Ok Se viene Con i due dadi Nel momento in cui Tento di recuperare Un doppio uno Si avrà una promozione Sul campo Cioè Verrà creato Un leader C'è una tabella Posta Dove si creerà Un nuovo leader Se invece si fa 12 Si avrà Casuality Redaction Cioè 12 non lo augura Nessuno Praticamente Una squadra Tipo facciamo Questa Che provate a recuperare Fa 12 Fa 12 Quindi Fa 12 Questa è una squadra Diventerà Mezza squadra Ok La giriamo Prima era una prima 4-4-7 Adesso è diventata Una 2-2-7 Mettiamo il caso Che la squadra Rotta Era appunto Questa mezza squadra Ok Scusate Questa mezza squadra Faccio 12 Mentre tento di recuperarla L'unità verrà eliminata Ok Mettiamo il caso Del leader di prima Che tenta di recuperare E fa 12 Fa 12 Il leader viene ferito Ok Viene ferito Se fa 1-4 Rimani in vita Se fa 5-6 Ci tenerà un dado Se fa 1-4 È ferito Ok Quindi verrà Verrà messa sopra La pedina Di Praticamente Di 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 leader ferito E Se fa 5-6 Muore Nel caso in cui Ok Ok Non trovavo Non trovo Il Leader ferito Ah questo Ok È una pedina Adesso qui viene Messa la croce La croce rossa Sul Sul leader Però Nella scatola Troverete proprio La La pedina Questo l'abbiamo visto Ok Dopo La fase Il punto F Della fase Di rally face Entrambi i giocatori Anche qui Prima sempre L'attaccante Poi il difensore Possono tentare Di recuperare Le unità Che sono Rotte Ma che sono Nell'esagono Con un leader In good order Ok Non rotto Faccio un esempio Quest'unità qua È rotta La tedesca Ha un DM Il morale Disperato Viene Dato Quando una squadra Rompe Cioè fallisce Un morale Durante Uno scontro a fuoco Ok Quella squadra lì Ha subito un fuoco Nemico Ha fatto una prova Di morale Non lo ha passato La squadra Si rompe E prende Il morale Disperato Che è praticamente Un malus Di Di più 4 Al tiro di dado Per recuperare Ok Quindi in questo caso qua Nella fase precedente Quest'unità qua Si è rotta Ha preso il DM Però è steccata Con un Con un leader 8-1 Quindi questa squadra qua Potrà recuperare Qua abbiamo La stessa cosa Abbiamo una squadra rotta Con un leader Russo Non ha il DM Non ha il DM Perché molto probabilmente Nella fase precedente Aveva il DM Ha provato A recuperarlo A recuperare Non ci è riuscito Quindi alla fine Della rally face Il DM Va via Quindi Già questa squadra qua Aveva provato A recuperare In precedenza Non ci è riuscito Ha tirato via Il DM E adesso si trova Nella rally face A recuperare A provare A tornare a recuperare L'unità Steccata Con il leader Quindi prima L'attaccante Quindi in questo caso Qua il russo Prova a recuperare Adesso facciamo un esempio Tiriamo due dadi Qui Il 7 di morale Viene modificato Dal meno 1 Del leader Quindi al tiro di dado Avrà un modificatore Di meno 1 E di meno 1 Perché si trova In una casa Ok Quindi tiro il dado Faccio 3 3-6 Che sarebbe 5-4 Per il Il leader E la casa Questa squadra Qua recupera Ok Dopo toccherà Al tedesco Che però Questo tedesco qua Non aveva mai provato A recuperare Quest'unità qua Perché c'è ancora Il DM Ok Quindi Proprio nella fase Precedente Vabbè Vediamo che siamo Nella Nella seconda Nel secondo turno Russo Ok Questa squadra qua Proverà a recuperare Però con un malus Di più 4 Quindi avrà 7 Più 4 Perché Ha il DM Meno 1 Per il leader Che è steccato Colui che gli dà Una mano A recuperare E anche Quest'unità qua In una casa Quindi avrà Un ulteriore Meno 1 Quindi Più 4 Meno 2 Fa un più 2 Proviamo a recuperare 4 5 6 7 Avrebbe recuperato Ma avendo un più 2 Questa squadra Non recupera Ok Alla fine Della rally phase Tutti I DM Vengono Tolti Ok E quindi Ci troveremo In questo caso qua Nella stessa situazione Che Si era trovato Il russo In precedenza Quindi nella prossima rally phase Ok Il tedesco Proverà A recuperare Senza Recuperare la squadra Senza avere Il più 4 Del DM Quindi avrà Un 7 Meno 1 Per il leader E meno 1 Per la car Tutti i DM Vengono Automaticamente Ok Automaticamente Tolti Se sono In una casa In un bosco Quindi Quest'unità qua Per esempio In M2 Si trova In una casa Alla fine Della rally phase Il DM Viene via Questa squadra qua Per esempio Che è in O3 Che è in campo aperto Come vedete Può decidere Di tenere il DM Solitamente Si tiene il DM Perché durante Poi la fase di rotta Solo le unità Che hanno il DM Possono Scappare Scappare In una fase di rally Può decidere Può decidere di Non tirare via Il DM Per poi Allontanarsi Nella fase Di rotta Quest'unità qua Russa Che si trovi in casa Dovrebbe automaticamente Tirare via il DM Ma se Se a fianco di un'unità Rotta O rotta con DM E vi è una squadra nemica Vicina Una squadra che non aveva il DM Lo prende Ok? E una squadra che ha il DM Lo deve tenere Perché? Perché poi nella fase di rotta Una squadra si dovrà Allontanare dalla squadra nemica Ok? Perché la squadra nemica È venuta vicino Questa squadra qua Che era rotta Si vede avvicinare Una squadra nemica Quindi se non era Non aveva il DM Morale disperato Lo prende O se ce l'aveva Lo tiene Perché poi nella rally face Si deve allontanare E Io direi di aver detto tutto Ok? Direi di aver detto tutto Questa è la fase Di La rally face E Direi che siamo a posto Spero di non aver fatto degli errori Ragazzi Se trovate degli errori Scrivetemi O ditemi qualcosa E Poi ci vediamo Alla prossima puntata Che appunto Andremo A A Vedere La prep fire Dell'attaccante Ok? Ciao ragazzi Ciao ciao